Da oggi 40,5 milioni di italiani saranno in zona bianca. Di fatto due cittadini su tre vivranno in regioni dove le restrizioni sono ridotte al minimo. Smettono infatti di applicarsi le misure che regolano tutte le attività nelle altre zone, compreso il coprifuoco che nel resto d'Italia sparirà il 21 giugno. E' sempre il 21 giugno che anche la campagna rientrerà nella tanto attesa zona bianca, insieme a tutte le regioni rimaste in giallo. In attesa ai lunedì prossimo, quindi, ricordiamo le disposizioni dettate per quanto riguarda le minori restrizioni. In vigore dal 21 giugno resteranno sostanzialmente l'obbligo del distanziamento di almeno un metro, l'utilizzo della mascherina, l'igienizzazione delle mani e il divieto di assembramento, sia all'aperto che al chiuso. Dal DPCM del 2 marzo, che ha introdotto la zona bianca, sono però state approvate una serie di regole che valgono anche nelle regioni che si trovano in questa fascia. Nelle zone bianche è consentito organizzare feste private successive a cerimonie religiose o civili, dunque matrimoni, cresime, comunioni, battesimi, ma anche compleanni, feste di lauree e anniversari. Per parteciparvi, però, esattamente come avverrà in zona gialla da martedì 15 giugno, bisognerà avere una delle tre certificazioni verdi previste dai decreti attualmente in vigore. Certificato di vaccinazione, che vale nove mesi a partire dal completamento dell'intero ciclo, dunque anche con la seconda dose, oppure dal quindicesimo giorno dopo la prima dose fino alla somministrazione della seconda. Certificato di guarigione, che ha validità di sei mesi, tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti la partecipazione all'evento. Nel DPCM, che dovrà essere approvato nei prossimi giorni, è previsto che la verifica delle certificazioni spetta ai soggetti che erogano i servizi per fruire, dei quali è prescritto il possesso di certificazione verde, e gli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali. Dopo un confronto tra Regione e Governo, è stato stabilito, con un'ordinanza firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza il 4 giugno scorso, che fino al 21 giugno, in zona bianca, il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Il DPCM del 2 marzo, che definisce le misure per la zona bianca, afferma che restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati all'aperto e al chiuso. Di fatto, dunque, le discoteche potranno aprire, ma solo per le attività di ristorazione e somministrazione, mentre resta vietato ballare in pista.